incontravano l'OEF e anche Monica Resisto di Fairwatch. Abbiamo fatto un punto sui cambiamenti climatici, in particolare come i trattati internazionali influiscono e causano, sono uno degli elementi che causano i cambiamenti climatici indotti dall'uomo. Adesso oggi iniziamo questa conferenza invece facendo un focus più sull'estrateismo. Siamo qui con l'organizzazione Recommon, con Giulia Franchi e Filippo Taglieri. Non ci sarà Simona Ricotti del comitato No Carbone Alto Lazio per una malattia improvvisa, però faremo anche il punto sul tema italiano, sul percorso italiano. Con noi ci sarà anche Angelica Ortiz del Pueblo Guayu, della Guaira, che poi farà un intervento un pochino più specifico e locale sulla questione del carbone nella Guaira. Diciamo che apriremo questa conferenza con Recommon, perché Recommon è un'organizzazione che attraverso le sue inchieste e i suoi studi sta lavorando, sta facendo un lavoro veramente importante. Noi ci siamo intrecciati con questa organizzazione in vari momenti. Uno di questi è stato per esempio in Colombia, contro la costruzione della diga di El Kimbo nell'Uila. Ci siamo anche articolati nella rete che per un periodo ha fatto vivere i comitati italiani contro il carbone e contro l'Enel. Dì è vero! Dì è vero! Un attimo. Successivamente non solo abbiamo incrociato le nostre storie, i nostri percorsi nelle lotte contro l'estrattivismo e contro il carbone, ma anche per esempio contro un'altra forma di estrattivismo che è per esempio la geotermia dell'Amiata. Abbiamo fatto insieme anche un campeggio all'Amiata qualche anno fa, ma è importante che siano qui proprio per, diciamo, aprire, cioè continuare il festival facendo un focus un pochino più specifico su quello che è in generale l'estrattivismo. quando si parla dell'estrattivismo ci viene sempre in mente o il carbone o il petrolio, quindi le attività minerarie per esempio, però non è così. Ci sono tante forme di estrattivismo che in qualche modo influiscono anche sulle nostre vite e sui sistemi produttivi. Quindi io chiedo a Giulia Franchi di fare un intervento per aprire questa conferenza nel modo più ampio possibile. Buonasera, ciao a tutte e tutti. Io, come diceva Enzo, faccio parte dell'associazione Recommon, che è una piccola associazione di Roma. Da alcuni anni con Recommon abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di visitare diversi territori in giro per il mondo, intendendo ovviamente come mondo anche l'Europa e l'Italia, verificando come tutta una serie di questioni si somigliano in posti molto diversi tra loro. Abbiamo avuto l'opportunità negli anni di attraversare diversi territori in Africa, in America Latina, in sud-est asiatico, in Europa, in Italia, in Nord Italia, in sud Italia, e di renderci conto di come nell'attuale fase del capitalismo il modello di sviluppo, il modello produttivo, il modello di implementazione di megaprogetti in giro in diversi contesti si somiglia. Abbiamo avuto l'opportunità di renderci conto che con la parola estrattivismo molto spesso in Italia si pensa, come diceva Enzo, principalmente a estrazione di risorse naturali dal sottosuolo, quando in realtà estrattivismo declinato, come lo stiamo declinando in giro per il mondo, ci rendiamo conto che è tutt'altro, o meglio, l'estrazione di risorse naturali dal sottosuolo è una parte della storia. L'estrattivismo infatti è un, sempre di più sta assumendo le caratteristiche di un sistema, di una fase ben precisa dello sviluppo e del capitalismo oggi, che ha delle caratteristiche che paradossalmente o incredibilmente si assomigliano molto, parlano lingue diverse ma hanno caratteristiche assolutamente simili. Il motivo per cui facciamo un cappello sull'estrattivismo per poi andare a parlare di Colombia è per darci degli strumenti per comprendere quelle che sono le sfide oggi di fronte alle quali questo sistema ci pone e che quindi strumenti possiamo sviluppare per contribuire a fronteggiarlo. Come Recommon abbiamo visitato diversi paesi, diversi progetti, ci siamo seduti con tante comunità in giro per il mondo e spesso ci siamo trovati ad ascoltare storie affini, storie fatte di caratteristiche che a volte prendevano nomi differenti ma che poi riportate diciamo in qualche modo al filo rosso che le collega creano un contesto particolarmente affine. Ci siamo resi conto per esempio che nei diversi contesti dove questi progetti di diverso tipo, parliamo certamente di estrazione di petrolio, gas, certamente estrazione di carbone, ma parliamo anche di costruzione di mega impianti, di produzione di energia elettrica attraverso l'acqua, per cui grandi dighe appunto principalmente in America Latina e in Africa, parliamo anche di costruzioni di mega infrastrutture per l'estrazione di risorse dal sottosuolo, parliamo anche di costruzione di autostrade o di linee ferroviarie, o di mega oleodotti o di gasdotti come nel caso del TAP in Salento che dovrebbe, se costruito, portare gas dall'Azerbaijan fino all'Italia. Tutti questi contesti che abbiamo attraversato avevano delle caratteristiche comuni, primo fra tutti ad esempio erano spesso, o sono spesso, zone di conflitto, intendendo il termine conflitto in senso molto ampio. Il conflitto a volte si chiama appunto guerra al terrorismo, a volte si chiama lotta al narcotraffico, a volte si chiama repressione di gruppi ribelli, prende nomi diversi, ma di fatto contesti di conflitto paradossalmente sono i contesti ideali, paradossalmente e contrariamente da quanto logicamente potrebbe sembrare, sono contesti ideali per fare profitti per le grandi imprese e le multinazionali, perché il conflitto permette, favorisce il controllo del territorio, autorizza soprattutto il controllo del territorio, autorizza lo Stato a mandare le forze, i polizia o militari per presidiare i territori, e in qualche modo favorisce il presidio, in qualche modo tenendo sotto controllo qualunque forma di repressione, infatti questo fa sì che, per esempio se passiamo a parlare di un'altra caratteristica comune di questi territori, e cioè il ruolo dello Stato, nei contesti in cui questo tipo di progetti vengono implementati, lo Stato non è affatto più debole, come ci si aspetterebbe di fronte al potenziamento delle multinazionali e del mercato, ma è uno Stato molto forte, che esercita due ruoli in particolare, da un lato il ruolo della repressione, e quindi il controllo, il presidio dei territori per favorire il business su quei territori, dall'altra il ruolo di riorganizzazione dell'infrastruttura legale, o in qualche modo privatizzazione della legge, e del diritto, e cioè modifica e piega la legislazione per rendere ciò che prima era illegale, renderla improvvisamente legale, e quindi in qualche modo si pone a fare tutto forché la tutela, diciamo, del bene comune e dell'interesse collettivo. Contesti dove questi progetti si sviluppano sono spesso contesti di marginalità, che si parli di marginalità sociale, di povertà, sono contesti in cui il potere negoziale delle comunità che vivono in quei posti, o in quei contesti, è spesso limitata, o quantomeno compromessa, dalle condizioni materiali in cui le comunità si trovano a vivere. Questo vale appunto che si tratti di accesso ai beni primari, quindi accesso al cibo, all'acqua, o che si tratti di accesso a opportunità di lavoro in latitudini diverse di lavoro e di occupazione come le nostre. Altri aspetti molto comuni sono ad esempio la questione del malaffare, della corruzione, o di legami più o meno organizzati con quella che localmente è la criminalità organizzata, localmente o internazionalmente la criminalità organizzata. Il malaffare e la corruzione non sono in qualche modo nel contesto, all'interno, nell'ambito del sistema estrattivista e nella declinazione dei progetti in giro per il mondo, non sono pochi casi o mele marce che in qualche modo deviano da una modalità altrimenti virtuosa di fare affari, ma sono la condizione senza la quale questi affari non si riescono a fare. E di conseguenza gli accordi stretti tra i legami, gli interessi e le affinità tra gli interessi politico-corporativi sono assolutamente persistenti e si ripetono molto spesso in molti dei contesti che abbiamo attraversato. E questo fa sì che si cominciano un po' a delineare anche dal punto di vista degli strumenti per agire, fronteggiare, in qualche modo buttare un po' di sabbia nell'ingranaggio. Ci si rende conto come andare a toccare o provare a toccare in qualche modo quelli che sono i presupposti perché questo modello, cioè il modello estrattivista, rispetto a come questo modello estrattivista si declina, può essere una delle modalità per cercare di dare il contributo per rallentare questa macchina altrimenti impazzita. Quando parliamo di estrattivismo e guardiamo all'estrattivismo ci rendiamo conto quindi che si tratta in fondo di estrazione di risorse, ricchezze, ma anche sovranità dai territori e quindi autonomia dai territori e quindi la possibilità di coloro che su quei territori vivono, sopravvivono e grazie a quei territori sopravvivono, quindi spostamento di sovranità da chi ci vive e grazie a quella terra e territorio sopravvive a chi se ne serve o a chi ha bisogno di accedere alle risorse legate a quel territorio per poter fare ovviamente ulteriore profitto. Quindi una sostanziale spostamento ed estrazione di autonomia e sovranità. In questo quadro, quando ci siamo trovati ad andare in Colombia e quindi da qui il collegamento con Iacue e con ovviamente l'esperienza che ci racconterà Angelica, quando ci siamo trovati ad andare in Colombia ci siamo resi conto che di tutto quello che sto dicendo di tutto quello che sto dicendo la Colombia è in qualche modo un laboratorio privilegiato. Tutti questi aspetti li abbiamo drammaticamente ritrovati in quel contesto e abbiamo cominciato a chiederci che cosa potevamo fare noi come associazione italiana, come gruppo di associazioni in Italia per comprendere e per influire diciamo nettamente su quella che è la situazione drammatica che abbiamo riscontrato riscontrato tra le comunità dove il carbone colombiano veniva estratto per poi essere esportato e quindi importato in Europa e da noi in Italia perché questo è stato un po' il collegamento più forte scoprire che gran parte delle centrali della società Enel che ad oggi è ancora del 30% di proprietà dello Stato quindi una società altamente partecipata dallo Stato italiano importa insieme a moltissime altre utilities europee e aziende europee importa dalla Colombia una grandissima quantità di carbone carbone che alla fonte di fatto viene estratto in contesti di violenza indicibile di devastazione ambientale drammatica e di violazione persistente e consistente di tutto quello che sono diritti umani, ambientali della natura e quant'altro ci siamo resi conto che come consumatori e potenzialmente e cittadini italiani avevamo in qualche modo una leva o ritenevamo di poter avere una leva nei confronti dell'Enel e quindi abbiamo aperto abbiamo effettuato varie visite sul campo raccolto numerose testimonianze in particolare nel dipartimento del Cesar dove due aziende Dramond e Prodeco americana e svizzera estraevano carbone per venderlo all'Enel abbiamo raccolto testimonianze girato video raccolto conferme di come ad esempio le forze nel caso del Cesar le forze paramilitari del blocche norte delle AUS erano in qualche modo finanziate o supportate dalle aziende produttrici di carbone per garantire la tutela in qualche modo delle operazioni di estrazione e quindi abbiamo contribuito a una campagna europea che si chiamava Stop Blood Call quindi interrompere l'importazione di carbone insanguinato dalla Colombia facendo pressione come azionisti dell'Enel abbiamo acquistato un'azione siamo andati a partecipare come facciamo da molti anni all'assemblea generale degli azionisti delegando alcuni rappresentanti di comunità colombiane colpite da queste operazioni e domandando a gran voce con una campagna di pressione piuttosto significativa che fermasse le operazioni di importazione è stata una campagna lunga che ha avuto bisogno di tanti richiami e ricordini e letterine pubbliche e incontri pubblici e pressione che dopo tre anni ha effettivamente portato a quello che allora l'anno scorso abbiamo ritenuto un successo e cioè un annuncio pubblico all'assemblea degli azionisti dello scorso anno da parte dell'amministratore delegato dell'Enel Starace che l'Enel si impegnava ad interrompere le importazioni di carbone dal Cesar abbiamo preso ovviamente con soddisfazione il risultato ma non ci siamo seduti sul risultato e nel corso di quest'anno abbiamo monitorato le operazioni di acquisizione del carbone visto che l'Enel brucia carbone colombiano a Civitavecchia a Brindisi eccetera le due più grandi centrali al momento operative ci siamo chiesti da dove continua a venire questo carbone visto che non hanno accennato a diminuire le ore di produzione di elettricità da carbone per l'Enel e quindi monitorando le importazioni attraverso appunto contatti anche in Colombia ci siamo accorti che l'Enel aveva sì interrotto la produzione l'importazione di carbone da Drummond e Prodeco ma aveva aperto nuovi contratti con questa impresa Serrejon nella zona della Guajira e questo ci ha in qualche modo da una parte fatto sorridere dall'altro indignato nel senso che ovviamente l'Enel ha preso crediti e riconoscimento come sempre di più un'azienda che si sta votando alla produzione di energia pulita e con una attenzione alla responsabilità sociale di impresa notevole quando in realtà ha sostanzialmente fatto un'operazione di ripulizia della sua faccia e della sua reputazione ma di fatto continuando business as usual in qualche modo in un contesto ancora più complesso e ancora più difficile che è il contesto della Guajira di cui ovviamente poi Angelica ci parlerà nel dettaglio ma soprattutto come una società che è ancora più complessa della società Drummond e Prodeco contro le quali ci eravamo scagliati noi perché è una società come vedremo che ha la capacità di mostrarsi tremendamente pulita anche quest'anno quindi abbiamo ripetuto l'operazione di partecipare all'assemblea degli azionisti passo su questo passo la parola a Pippo che ci può raccontare visto che era lui presente per Recommon invitando appunto Angelica a partecipare e delegandola invitandola a fare un intervento per descrivere un po' con nettezza quello che sta effettivamente avvenendo nel suo territorio contrariamente a quello che è nella continua a dichiarare sì ora lascio la parola a Pippo si andrà a vedere appunto quello che succede più in Italia eravamo all'amiata proprio combattendo contro la geotermia e ci sta ancora Enel avevamo invitato proprio un tecnico dell'Enel di Civitavecchia mentre si parlava dell'amiata in cui addirittura muoiono due persone di media al mese in più che nel resto della regione toscana proprio per i metalli pesanti e l'inquinamento dato dalla geotermia il tecnico dell'Enel disse queste parole ma voi vi lamentate muoiono solo due persone al mese in più mentre a Civitavecchia ogni volta che si accende la centrale del carbone muore qualcuno non avevamo la telecamera per riprendere questa cosa loro danno per scontato nel senso si sa è così però non siamo obbligati perché i profitti siano sempre quelli e si aumentino addirittura i profitti a utilizzare il carbone diciamo le inchieste di Recommon vanno in Colombia ma vanno anche chiaramente in Italia e chiederei a Pippo visto che non c'è il comitato italiano proprio di chiarire un po' anche quello che succede qua è complicato perché non sono in tutti i posti dove c'è una centrale a carbone dell'Enel però diciamo che le due centrali appunto più grosse che sono rimaste appunto come facevamo accenno sono quelle di Civitavecchia e quella di Brindisi ovviamente noi abbiamo invitato entrambi i comitati ma proprio per quello che diceva Enzo il tasso di malattie purtroppo collegati al vivere a fianco a una centrale a carbone all'interno dei comitati è molto alto quindi in entrambi i casi proprio per motivi di salute i due portavoci non si sono sentiti di fare questo viaggio fino a qui da lì giù la questione si collega molto all'aggiornamento si collega molto all'assemblea degli azionisti perché con stupore di tutti il giorno prima dell'assemblea degli azionisti dell'Enel è uscito un comunicato che affermava che le centrali a carbone di Enel in Italia avrebbero chiuso che ovviamente è il titolo il sottotitolo era che sarebbero state riconvertite a gas e quindi il giorno dell'assemblea degli azionisti e poi arrivo ai territori perché i territori ci sono arrivati dopo perché all'inizio erano solo dei comunicati stampa e il giorno dell'assemblea degli azionisti appunto come come diceva Enzo cioè senza sminuendo l'impatto sulla salute delle persone non calcolando i morti ma calcolando solamente i ritorni economici da conversione dal carbone alle rinnovabili o dal carbone al gas e poi alle rinnovabili si è fatto un'analisi delle percentuali di come l'Enel gradualmente convertirà le sue centrali e mentre noi sottolineavamo come questa cosa ha delle incidenze sulla salute cioè il cambio dei filtri di una centrale a carbone è direttamente collegabile con dei casi di tumore loro hanno detto vabbè però questo non dipende solo da noi noi siamo un'azienda queste cose vanno decise con i paesi va deciso con Terna che gestisce la rete perché noi non possiamo chiudere una centrale così e poi vi lasciamo al buio ovviamente queste cose dette con superficialità hanno un peso soprattutto per chi studia poi le carte e come funziona il sistema il sistema nazionale elettrico in realtà quello che ci sta sotto sulle spalle sulla vita della gente è tutta la partita e le bonifiche delle compensazioni perché ovviamente Enel avrà dei ritorni d'immagine nel diventare super green e poi nei prossimi anni capiremo cosa significa ma soprattutto per questo suo abbandonare il carbone sta contrattando col ministero dell'economia e col ministero dell'ambiente i ritorni economici di questo stop quindi quanto deve ricevere dallo Stato senza riconoscere ovviamente il suo ruolo attivo nelle bonifiche che invece sono disastri generati da quel modo di generare energia generati da quel modo di gestire le centrali che ha potete benissimo vedere su presa diretta c'è un bel servizio che è uscito quest'anno sulla centrale di Brindisi che fa capire chiaramente quanto sia ad occhio visibile l'impatto dell'inquinamento e l'impatto di quella centrale e appunto è capitato in questi giorni di dialogare con il NAC con il Carbone di Brindisi e la loro situazione è molto è un po' una conferma di quello che può succedere a percorsi lunghi che finalmente dopo un tot di anni riescono a leggere su un giornale chiudono la centrale a carbone che per loro significa in qualche modo una vittoria politica ma anche diciamo una serie di facce di persone che non che non ci sono più e e alla fine il sottotitolo è si va avanti con il turbogas e quindi uno che sta in un comitato e dice vabbè abbiamo finito col carbone una vittoria ma non riesce a finire la frase perché poi di fatto l'impatto è leggermente inferiore ma nonostante in questo anno vada tanto di moda il fatto che il gas è un'energia pulita non è affatto vero è semplicemente un cambio di strategia energetica nazionale che sta per passare come a chiudiamo il carbone perché adesso abbiamo l'energia verde che è il gas questa cosa ovviamente non ha nessun fondamento scientifico e in più loro erano riusciti a esprimere come come sindaco in qualche modo a supportare una persona che veniva dal loro comitato e questa persona adesso si trova a legittimare una scelta che è comunale che è soprattutto regionale ma che supporta il cambio di il cambio di materia prima da utilizzare per trasformarle in energia ma non supporta uno dei vari progetti di bonifica che i comitati stessi avevano portato avanti nel corso degli anni non supporta una chiusura uno smantellamento di quella centrale che tanti danni ha creato a ettari e ettari di distanza da dove avveniva appunto il bruciare il carbone e quindi quello che mi hanno rimandato e che vi riporto che l'unica cosa che vi posso riportare è l'amarezza in qualche modo dopo 15-20 anni di dover ricominciare una battaglia da capo proprio in una regione che è la Puglia che già con il gas sta subendo enormi devastazioni perché comunque il comitato del carbone di Brindisi è molto collegato con i comitati NoTap hanno portato avanti anche a Brindisi un supporto alla lotta a NoTap e in più con questo governo un po' ibrido si sono visti davanti anche altre proposte di Gasdotto perché in questo momento ne dovrebbero attraccare secondo i sogni di gloria di questa specie di capitalismo italiano altri due nella zona del Basso Salento quindi un po' la situazione è questa che la gente non può che non essere stanca perché sono anni che ti muore comunque un familiare anni che te provi a fare due passi avanti e ogni volta c'è una novità e la novità di quest'anno è che in più l'Eni passa come l'azienda che ha fatto la svolta green l'Enel scusate un lapsus parlando di cattivi e sì la differenza è che la utilizza in maniera anche qui come vedremo per il Serrecon da una problematicità legata ai diritti ambientali e ai diritti umani si riescono a trasformarla in una narrativa che invece è virtuosa perché l'Enel chiuderà le centrali a carbone non perché il carbone non gli conviene più e che il gas invece è molto più sull'onda del mercato ma perché Enel è verde Enel pensa a una nuova forma di sostenibilità questo è un po' il risultato collegato e collegabile ai comitati adesso non so se Angelica racconterà un po' di più quello che si è detto sul Serrecon in particolare poi se serve posso anche aggiungere qualcos'altro sì grazie adesso passiamo su Angelica è interessante questo passaggio proprio sulla Colombia proprio perché quello che diceva anche Giulia prima praticamente c'è stata questa campagna contro Enel perché acquistava il carbone dalla Dramond poi siamo resi conto si sono resi conto che comunque Enel continuava a comprare il carbone dal Serrecon che è un paese sempre della Colombia un dipartimento dove chiaramente vivono in gran parte il popolo Guayu quindi non a caso come diceva anche Giulia stiamo in Colombia perché la Colombia è il paese delle grandi contraddizioni come produttore di petrolio siamo al nono posto a livello mondiale quindi non è neanche il paese che esporta più petrolio più carbone in realtà il 70% viene esportato più dagli Stati Uniti dall'India dalla Cina da questi paesi quindi dall'Australia quindi da questo punto di vista non è identificativo però è anche vero che invece la Guaira è il dipartimento che in Colombia esporta più carbone è un dipartimento particolare perché in parte desertico in parte semidesertico e lì vive un popolo quello del Guayu che ci insegna qualcosa anche perché bisogna entrare un pochino dal punto di vista chiaramente del disastro ambientale dell'inquinamento è chiaro che chiunque trorebbe difficoltà a vivere come i compagni di Civita Vecchia chiaramente a vivere vicino a una centrale da carbone e vicino a una miniera a cielo aperta come quella del Sarecon però nel caso del Guayu è un caso particolare cioè ci insegnano a capire meglio a entrare meglio nel dettaglio anche perché per il Guayu il corpo è parte del territorio quindi una violazione del territorio è come violare il loro corpo e anche dal punto di vista culturale della loro cosmogonia loro danno molto importanza ai sogni attraverso i sogni loro riescono a interpretare il presente e il futuro e loro dicono che addirittura il Sarecon questo sistema carbonifico immenso in qualche modo sta interrompendo questo flusso che per loro è vitale questo flusso spirituale che attraverso i sogni riescono anche in qualche modo a proteggere il futuro delle loro generazioni quindi questo diciamo estrativismo questa attività di questa miniera a cielo aperto in qualche modo sta colpendo proprio il cuore della cultura di questo popolo quindi io lascio la parola ad Angelica Buona Angelica Buonasera Mi nome è Angelica Ortiz faccio parte del movimento Fuerza delle Mujere Guayum e vengo della Guajira del nord di Colombia Buonasera a tutti mio nome è Angelica Ortiz e vengo dalla Guajira nel nord della Colombia quindi nel nord fra il mar dei Caraibi e la frontera con Venezuela la zona del impacto della mineria di Cerrejon lograno ver la diapositiva Buonasera la empresa ocupa cinque municipios desde che se extrae il carbone hasta la salida in Puerto Bolivar è una colombia è un paese che ancora stia affettando il conflitto armato c'è molte affettazioni al reddore è un paese che continua ad essere colpito dal conflitto armato scusate un attimo di problema tecnico con la zona di Cerrejon è una zona dove abitavano alrededor di 22 comunità indigena comunità afro e comunità campesina comunità che si vero obligati a salire dei sui territori alcuni per falli giudiziali e le altre le toccò salire per presione della misma empresa al comprarle a vecinos del reddore perché erano dueños privati e per questa razione si vieron pressionate le comunità per vendere quindi è una zona che forse adesso si riesce a vedere occupata da comunità indigene afrodiscendenti contadine e che mano a mano sono state costrette a lasciare il proprio territorio o per questioni giudiziarie o perché la stessa impresa ha cominciato a comprare i territori dai proprietari privati attorno a queste comunità l'exploitazione di carbone ha traito consigo la pobreza in muchas comunidades esto ha afectato de manera diferencial a las mujeres porque se han visto obligadas a salir de una zona rural a una zona urbana donde hoy su modo de vida su forma de ejercer su vida cotidiana es muy distinta a la que tenían en sus comunidades hoy ya no pueden practicar su cultura se ha perdido la lengua materna el guayuna lamentablemente las mujeres han salido de sus territorios a sufrir triple discriminación y ocasiones cuatro discriminaciones una por ser mujer por ser pobre dos tres por ser mujeres indígenas cuatro por ser desplazadas entonces sostiene una connotación muy fuerte en lo territorial para uno como como guayú porque el guayú el pueblo guayú se reivindica a través de la placenta a través del ombligo de los hijos y eso va de generación en generación la povertá que es la consecuencia de esta invasión ha colpido la comunidad ma soprattutto le donne le donne soprattutto han dovuto lasciare le zone rurales per andare nelle zone urbane e per urbane e questo ha devastato la loro forma di vita perché ha trasformato la loro cultura il modo di essere ha fatto perdere la lingua materna la lingua yu yu ha fatto soffrire quattro volte sia perché sono donne sia povere indígenas sia perché sono sfollate e questo ha avuto un impatto particolarmente importante per la cultura yu perché la cultura yu si trasmette attraverso la placenta attraverso l'ombelico attraverso il cordone ombelicale e por esta razón nosotros no llamamos tierra sino territorio esto anteriormente era una comunità indígena hoy tenemos un eco o un pip de carbón donde se hacen explotaciones voladuras a diario que pareciera como si hubieran temblores todos los días estos son los camiones que utiliza la empresa para trasportar el carbón entonces ahí vemos la diferencia de un carro que utilizamos en este que está aquí el carro que utilizamos en las ciudades y el camión de transporte de carbón por esta razón la empresa necesita 17 millones de litros de agua cubica diario para regar las vías para hacer aspersión de agua para que el polvo no se levante y así evitar una mayor contaminación de la que tenemos hoy esta imagen impresionante da un po l idea de le proporziones que la piccola es una macchina normale estos son enormes camiones que pasan todos los días cerca de casa y por esto consuma 17 millones de metros cubos de agua solo para togliere la polvere de la strada las comunidades por familias y en algúnas ocasiones tienen 18 litros de agua para todo un día Per farvi l'idea dell'impatto dell'impronta idrica, ci sono comunità che hanno a disposizione 18 litri di acqua a testa. Quindi loro come danno i guaiù, con le associazioni di acqua a testa, si sono messi in contatto anche con altre donne delle comunità offrodiscendenti, contadini indigene, ma anche della zona del Caribe, che stanno soffrendo simili sofferenze, ma anche le cause che derivano dal conflitto interno, dal conflitto armato. La gente pregunta sempre, e voi che facciano? Le donne che facciano nel territorio per affrontare questi fenomeni? Quindi noi come donne abbiamo iniziato a fare varie attività, la prima è conoscere i diretti, per questo abbiamo una scuola di formazione di donne indigene, per la quale hanno passato più di 1.400 donne, che si hanno formato in molti temi, ma precisamente in temi che marcano il territorio territorio. E quindi loro che fanno come donne? Beh, soprattutto la loro attività principale è quella della conoscenza, hanno costituito una scuola di formazione che ha visto oltre 1.400 donne passare nei loro corsi, e soprattutto è il diritto territoriale quello su cui si stanno informando maggiormente. E il obiettivo della scuola di formazione principalmente è che le donne iniziare la partecipazione politica da dentro delle comunità per così poter andare a portare o estando in lugares dove si toman le decisioni, che non solamente è al interior delle comunità. Per questa ragione, oggi abbiamo, per queste elezioni che vorranno in Colombia questo anno, abbiamo raggiungo al Consiglio Municipale, a la Asamblea Departamentale, a le alcaldie, per poter essere in espaci di toma di decisioni. Ci siamo in conto che in Colombia c'è una legge che regula la participazione delle donne in politica, però abbiamo che solamente stanno per essere obiettivi del riempio dei dei bambini, per cumplire con la legge. Oggi le donne abbiamo deciso che non siamo per riempio, siamo per exigire i nostri diretti, stiamo per anche fare la partecipazione e stare in questo spazio dove solo tradizionalmente è venuto siendo dominato per i bambini. L'obiettivo di questa scuola è soprattutto una partecipazione, una formazione delle donne per stare nei luoghi decisionali, che sono sì dentro la comunità, ma sono soprattutto i luoghi decisionali fuori della comunità. Infatti loro si stanno anche quest'anno formando, si stanno preparando anche per le prossime elezioni, per stare dentro il Consiglio Comunale, per concorrere al ruolo di sindaco, perché loro si sono resi conto che c'è una legge in effetti in Colombia che si occupa di regolamentare la presenza delle donne all'interno degli spazi decisionali, quello che noi potremmo chiamare quaterosa, ma loro rifiutano queste idee che possono essere dei riempitivi perché così gli uomini possono andare avanti. Loro hanno deciso di prendere in mano la situazione e di costruire il proprio cammino politico in maniera forte e decisa per esigere il proprio diritto di donne e di stare appunto nei luoghi della decisione. Esos espacios di formazione e per il conoscimento che si tiene all'interno della contaminazione e di tutta la problematica che abbiamo per la mina, abbiamo conseguito molte alianze, tra queste alianze di organizzazioni nazionali, ma anche abbiamo venuto tenendo alianze con organizzazioni internazionali, le quali hanno venuto appogliando alcune azioni che stiamo facendo nel territorio. Questo lavoro politico che loro stanno facendo, soprattutto per denunciare quello che sono gli effetti contaminanti di inquinamento della miniera a cielo aperto, li ha esposti a una forte ondata di minacce che per fortuna vengono accompagnate dalle azioni delle associazioni nazionali, ma soprattutto internazionali, che le stanno soportando. Hace molto tempo veniamo denunciando la contaminazione in l'acqua, in l'aria, però anche diciamo che abbiamo una possibilità che noi stiamo anche, come stuvieremo consumendo di maniera indiretta i metalli pesato che stanno per i metalli pesato proprio della timida miniera, però sempre diciamo che era mentira. Il anno passato, per fin, pudimos realizzare con la Università di Cartagena un studio in hígado e pulmoni di iguanas e chivos. Il risultato è sorprendente, i animali stanno super contaminati, con molti metali, però anche abbiamo l'acqua contaminata della fuente a cui si è fatto l'estudio. L'estudio è anche corroborato perché una prima volta era l'estudio di una università colombiana che si diceva che non era vero e si realizzò nuovamente con la Università di Koblenz di Alemania. Quindi questa continua denuncia che loro hanno continuato a portare avanti per quanto riguarda la contaminazione sono sempre state considerate come delle menzogne. Allora loro finalmente l'anno passato, l'anno scorso, sono riuscite a costruire insieme all'Università di Cartagena che è una importante città colombiana sui Caraibi uno studio scientifico sul fegato, sui polmoni di una serie di animali fra cui le iguane che vivono insomma nei loro territori e hanno potuto rilevare la presenza di metalli pesanti. Nonostante questo ancora non sono state credute allora questo studio è stato corroborato anche da un'università tedesca che ha confermato l'esito degli stessi esami. Esa come le accioni che stiamo facendo nel territorio stiamo facendo intercambi e partecipando in intercambi con le persone dell'America Latina come Perù, le persone di Chile, le persone di Brasil che anche hanno la stessa problematica che abbiamo noi nel territorio. Stiamo anche assistendo a le persone di formazione solamente per i leader per poter avere una miglior fortalezza e sapere come difendere la comunità per la negoziazione con le imprese. altre azioni che stiamo mettendo in campo sono l'interscambio con altre donne di altri paesi latinoamericani quindi il Perù, il Chile, il Brasile e seminari di liderasgo quindi come diventare leader ma questo soprattutto per sapere come difendersi e come contrattare con il multinazionale questa luce questa defensa che abbiamo venito realizzando anche ha venito una luce che si ha dato a través di campagne questa campagna era la che hicimos il anno hace dos anni in 2017 che si chiamo mineria ugual miseria una campagna che non fu ben recibida precisamente di lo che parlavano ora che la empresa sempre sta tratando di limpiar su immagine corporativa e questa è questa è molto estratégica questa campagna perché non solamente si ha l'ho sobre che questo sino che la mineria era irresponsabile quindi hanno messo in campo una forte campagna dal 2017 che si chiamava la mineria e miseria una campagna che chiaramente non è stata ben accetta che però ha messo in crisi l'operazione di greenwashing come raccontava prima Pippo quindi di lavarsi la faccia delle sue malefatte la stessa multinazionale che si è resa conto che stavano parlando di lei come di una impresa non responsabile anche abbiamo venito facendo movilizzazioni distintos tipos de movilizzazioni nel territorio e dove la participazione in sua maioria ha sido il 70% di ma che ven di l' lavorando per la defensa del territorio, abbiamo venuto facendo denuncias ante entidades statali di tutto quello che ha venuto accaduto nel territorio, la vulnerazione dei direttori, si ha recogito informazioni, la misma Contralorietà General della Repubblica ha venuto a territorio per tutte queste denunciazioni e sempre abbiamo stato con il accompagnamento di organizzazioni nazionali. Molte volte accanto a queste campagne sono scese in piazza, hanno fatto delle marce moltitudinarie, il cui 70% erano donne in difesa del territorio, hanno fatto denunce davanti allo Stato, hanno raccolto informazioni, tant'è che la controlleria, quindi l'istituzione locale è andata a partecipare a questi eventi per vedere quello che stavano raccogliendo. Con la Contralorietà pudimos fare una audienza pubblica, in questa audienza pubblica se denunciaron distintos hechos di violazioni di Derechos Humanos di comunità è stata proprio la denuncia della violazione dei diritti umani, tutte le cose che stanno facendo grazie anche all'appoggio delle associazioni internazionali. Purtroppo molti impegni però sono rimasti sulla carta, a parte uno. di questa forma, come le ho contato a ahorita, si limpia la impresa, la immagine, questo è un desalojo che le hicieron a un colegio, dove la jueza ha detto a la comunità che il non lo potevano utilizzare perché haciano parte della propietà privata della impresa. Questi sono i nostri o parte dei nostri i nostri che si stavano senza dove studiare in quel momento perché di queste mali negociazioni che hanno fatto con cinque comunità di maniera parziale sacaron quattro comunità di afro che sono che vediamo qui e questi bambini di queste famiglie che non sono riassentate che non le portarono per il nuovo sito si stavano senza il colegio dove studiare. Questa impresa ha provato a lavarsi la faccia come si suol dire e ha fatto una scuola e il risultato però è stato terribile perché di fatto molti bambini non hanno potuto frequentare questa scuola perché gli è stato detto che questa scuola era privata e che non era per loro la foto che vediamo sono questi bambini di cinque comunità afrodiscendenti che stanno fuori dalla scuola che volevano entrare e sono stati lasciati fuori. questa falta di questa scuola si ha fatto un compromiso per parte della empresa che le pagava il transporte a i bambini e a i bambini però le tocava desplazarsi a 40 minuti per poter arrivare al colegio più vicino queste comunità sono sacate di su territorio e tutti avevano una conexione che era tabaco tamaquito 2 roche chancleta patilla e questa era patilla dove dove avevano il centro di salute e sacaron la comunità quitarono il centro di salute quitarono il 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 colegio però anche quitarono l'energia e hanno quitato il servizio di acqua per la gente che vive nel territorio mentre la empresa segue dicendo che in territorio dove non c'estrati non c'estrati vivendo le comunità all'a stanno soffrendo all'espera di essere riconosciti come affettati per la empresa quindi a un certo punto sempre appunto in questa filosofia la empresa ha detto che pagava i trasporti ai bambini però i bambini dovevano andare molto lontano dovevano fare almeno 40 minuti di cammino quindi non sono andati e quello che è successo però è che alcune comunità sono state costrette a lasciare il loro territorio perché a un certo punto hanno cominciato a togliere i servizi hanno tolto la scuola hanno tolto l'energia hanno tolto i servizi basici per dire che questi spazi erano vuoti che quindi l'impresa poteva prenderseli e queste comunità stanno ancora tentando di lottare per essere definite comunità danneggiate da questa impresa per essere la prossima comunità a usare il suo territorio. Della stessa forma si è presentato anche il sistema delle Nazioni Unite, si è presentato diversi informi per dare a conoscere la situazione della quale abbiamo in Guajira in questo momento. Quindi quella lì è una foto in cui stavano presentando della documentazione davanti anche all'ONU perché descrivessero la situazione che stava vivendo la Guajira in quel momento. Queste comunità, Patilla, Roche, Casitas, Tamaquito 2 sono comunità che sono le uniche comunità che sono riassentate, riassentate solo in maniera parziale a Tamaquito 2, però Patilla, Roche, Chancleta e Casitas sono comunità che sono fragmentate totalmente. Roche era una comunità di 230 familiari, reubicaron 32, Patilla di ugual forma e così successivamente le famiglie e le famiglie le toccò desplazarsi a un altro luogo per cambiare un stile di vita con un gioco culturale. Quindi le comunità che hanno potuto partecipare alla presentazione di questi documenti sono state cinque, sostanzialmente tutte con le stesse caratteristiche, per esempio la comunità di Roche sono 230 famiglie che sono state sfollate e di cui solo 32 sono state riubicate, sono state di nuovo, le hanno trovato un altro posto e Patilla anche, sostanzialmente sono tutte comunità che vivono una forma di sfollamento importante. Per questo ci ha bisogno di vivere la maldizione del carbone in nostro territorio, ci ha bisogno di vivere con una empresa che è di capital dell'angloamerica, Glencore e di BHP Billington, che non ci hanno pensato ancora ancora i passivi ambientali che hanno, come si va a compensare, che si va a fare, però non ci hanno presentato un plan di cierre di minas. E' una extensione molto grande di terra che ha la empresa Cerrejone in questo momento, e in questa extensione di terra, ci sono molti luci di dove hanno sacato il carbone, che hanno traito per l'acqua, che hanno portato a altri paesi. E, lamentablemente, a 2034 se cierra la mina, e, lamentablemente, ancora non conosciamo il plan di cierre di minas. Questo è sostanzialmente quello che devono vivere loro, cioè la maledizione del carbone. le due multinazionali con cui hanno a che fare, la Glencore e la BHPB, non hanno detto, non hanno espresso nessuna parere riguardo all'interruzione della loro produzione. Il Cerrejone, questa enorme miniera a cielo aperto, presenta ancora dei buchi immensi e ha la concessione fino al 2034, e, al momento, non si sente nessuna voce che dica che questa produzione di carbone debba essere fermata. Il Cerrejone è la prima impresa che si accoglie a principi rettori, come la impresa con la responsabilità social hacia le comuni, crea 4 fondazioni. Esas 4 fondazioni hanno diversi obiettivi, però, lamentablemente, esas fondazioni non resuelven nessun problema di queste comunità. Però quando le preguntano a la empresa «Usted qué hace?», e dice «Sí, mire, io sto facendo questo, sto facendo questo», sto facendo questo, «Tambi ha cortato leader». E quando van delegazioni come del Enel, che fuero hace un mes, llevan a los leader cortati a la ciudad che hanno dentro della empresa e le dice «No, tutto va bene, con l'impresa tutto va bene, lamentablemente anche lo che fa è l'Estat». Il Cerrejone cos'è che ha fatto? Furbescamente ha costituito delle fondazioni con degli obiettivi molto intelligenti e molto alti, ma di fatto nessuno di questi obiettivi va nella direzione dei diritti delle comunità e di risolvere i loro problemi. Sostanzialmente quello che diceva prima un po' che fa l'Enel, quando qualcuno chiede loro il conto, loro dicono che va tutto bene, che hanno queste fondazioni che si occupano di fatto di alcune problematiche, ma quello che è evidente è comunque la totale mancanza dello Stato. E se hanno venito evidenciando anche le porti giratori questo che un empleato salga di la presidencia della Repubblica e vanno a lavorare dopo alla empresa o che una funzionaria della empresa salga a un estamento della ONU anche lo abbiamo venito evidenciando e vediamo come questo va creando anche travas per le comunità per poter capire in modo profondo che è quello che succede realmente nel territorio. Un altro problema che penso conosciamo anche qua è questa specie di porte girevoli, delle cariche per cui chi magari era dentro l'impresa poi a un certo punto lo ritroviamo dentro l'ONU poi a un certo punto lo ritroviamo dentro le cariche statali e queste chiaramente sono delle trappole per le comunità che di fatto non riescono mai a dire veramente quali sono le problematiche profonde che stanno vivendo. bene e lamentablemente la maldizione della Guajira non solamente è il carbone nostra siguiente maldizione se llama gas nostra maldizione actual dopo del carbone se llama energia eolica estamos enfrentando in questo momento un fenomeno di consultitis per distintas empresas haciendo consulta previa per entre comillas non come consulta previa non come un derecho ma ben come un tràmite administrativo esa è la differenza che abbiamo e quindi la consulta previa che stanno facendo le comunità ultimamente che necessita tome e firmi questo è lo che stanno facendo lamentablemente abbiamo abbiamo avuto altri anni più in la Guajira di problemi è una zona molto rica in minerali però molto pobre la Guajira è il secondo il secondo departamento più pobre di Colombia dove mueren i bambini settimana dopo settimana mueren i bambini e l'acqua potabile non c'è non c'è solo la maldizione del carbone nella Guajira c'è anche quella del gas e anche quella dell'eolico stanno subendo delle finte consulte previe le consulte previe sono questo meccanismo che prevede la costituzione colombiana che sostanzialmente impone alle multinazionali di chiedere alle comunità il permesso di fare una contrattazione quando devono fare dei megaprogetti però sono consulte previe finte perché di fatto sono praticamente dei tramiti amministrativi gli fanno firmare delle carte per poter avanzare nei loro processi con tutto questo probabilmente l'anno che gli aspetta sarà un anno sempre più difficile con tantissimi problemi la Guajira è una zona bellissima ricchissima di minerali ma purtroppo molto povera il secondo dipartimento la seconda regione più povera della Colombia che vede una emergenza umanitaria terrificante con soprattutto un'incidenza di morte infantile altissima e settimana dopo settimana muoiono bambini di fame e di sete perché un altro dei problemi grossi che hanno è quello dell'acqua di cui parleremo domani tra l'altro e per questa e per questa ragione seguimos in la luce seguimos defendendo il nostro territorio perché cada vez extranjerizzano più il territorio dove siamo e le comunità se quedano senza dove vivere seguimos avanzando in questa difesa dia tras dia non è facile la organizazione desde che nace Fuerza di Mujeres Guaiù ha venuto amenazato in Colombia ha una problematica molto grande in questo momento i leader sociali e i difensori dei diretti umani stanno sendo assassinati dia tras dia e è un problema abbastanza complesso nonostante tutto questo la nostra lotta se va avanti è una lotta in difesa del territorio che andrà avanti giorno per giorno e non è facile perché questa lotta gli espone come si diceva prima a continue minacce sappiamo che in Colombia in questo momento c'è un problema terribile di continue minacce e continue assassini verso i difensori dei diritti umani però nonostante questo noi andiamo avanti per ultimo chiedi che li invito e li invito a un uso razionale dell'energia che non si preoccupi per lasciare i nostri bambini in questo mondo grazie per lasciare i nostri bambini in questo mondo grazie quindi per terminare invito a tutti a un uso responsabile dell'energia perché non si preoccupino di lasciare che lasciamo i nostri bambini magari al buio o al freddo ma preoccupiamoci di lasciare ai nostri bambini un mondo più giusto e più bello grazie ci avviamo alla conclusione se ci sono delle domande in tanto magari preparatele io avevo una domanda per Recommon poi insomma lascio la parola al pubblico anche perché questi giornali quando si parla di Enel Eni si vedono questi giornali invasi dalle pubblicità chiediamoci perché in realtà sono quasi in una situazione di monopolio e non avrebbero bisogno di fare tutte queste pubblicità in realtà fanno queste pubblicità per controllare i mezzi di informazione e noi abbiamo delle esperienze in materia anche perché scriviamo gli articoli e tante volte non passano proprio perché i giornali dipendono e non solo i giornali ma anche le televisioni dipendono proprio da queste pubblicità la domanda che faccio a Recom a Giulia e a Pippo è quali sono le tecniche di greenwashing di queste multinazionali che avete con le vostre inchieste forse in corso molte volte in questi meccanismi che hanno loro di limpiarsi la cara come dicono in Sud America cioè lavarsi il viso io credo che in qualche modo l'aumento della sensibilità ambientale e sociale delle persone sta avendo degli effetti che sono un po' una fregatura nel senso che se fino a un po' di tempo fa i cattivi erano proprio cattivi erano cattivi zozzi puzzolenti oggi i cattivi sono buoni puliti e giusti e lo sono perché in qualche modo hanno la da una parte appunto le potenzialità in particolare finanziarie di acquistare da una parte il consenso dall'altra trasformare drammaticamente le loro attività da sporche a pulite con delle ingegnerie delle infrastrutture che non fino a un po' di anni fa sarebbero state inimmaginabili un esempio la prima multinazionale petrolifera italiana semiunica cioè ENI è una delle prime al mondo il 15 marzo scorso ha annunciato che pianterà quanti milioni di ettari di terra 8.1 milioni di ettari di foreste in giro per il mondo per in qualche modo rendere annullare l'impatto di emissioni di CO2 delle loro operazioni upstream upstream vuol dire alla fonte diciamo ENI cioè la causa della devastazione ambientale di centinaia di migliaia di ettari di terra in giro per il mondo non ultimo il delta del Niger che probabilmente non sarà mai bonificato e non tornerà mai a essere quello che era prima di fatto si presenta sul Financial Times innanzitutto come il campione come l'azienda campione per la produzione per la tutela e difesa della biodiversità e della natura e riescono a farlo passando in maniera non discussa in alcun modo appunto non contestata in alcun modo sui principali mezzi di informazione così andiamo poche settimane dopo all'assemblea degli azionisti dell'ENI comprando un'azione e presentandoci quindi come azionisti per poter fare domande chiediamo conto di dove sono questi 8.1 milioni di ettari di terra se le comunità sono state informate che vivono quelle 8.1 milioni di ettari di terra sono state informate che verranno piantate foreste sedicenti foreste sul loro territorio anche perché poi si potrebbe parlare del fatto che delle piantagioni intensive non sono foreste ma questo ci apre ci porta molto lontano e l'amministratore delegato di fronte alla nostra domanda risponde no sono stato frainteso dal Financial Times mi hanno capito male io intendevo dire che avremmo protetto ettari ettari milioni di ettari di terra in giro per il mondo proteggere nel linguaggio delle multinazionali significa partecipare a progetti che si chiamano RED Red Reducing Emission From Deforestation che significa sostanzialmente impedire alle comunità che vivono all'interno di quelle foreste di utilizzare le foreste per sopravvivere ma sostanzialmente impedendone quindi impedendone l'utilizzo un altro esempio Lampo Madagascar sud del Madagascar una impresa mineraria canadese Rio Tinto estrae il Menite che è uno sbiancante per dentifrici e vernici distrugge circa 6.000 ettari di terra nel sud appunto di quest'isola 60 km più su dichiara di proteggere 6.000 ettari di terra cioè una foresta dove vivono circa 1500 persone che da quel giorno visitate da noi a più riprese da quel giorno non mangiano non coltivano manioca non tagliano gli alberi per poter costruire piroghe e quindi pescare quindi sono sostanzialmente deprivate da tutti i mezzi di sussistenza la Rio Tinto che è l'impresa più sozza che esiste dal punto di vista appunto degli impatti ambientali e sociali passa come campione di difesa della biodiversità prima avevo parlato di privatizzazione del diritto e del ruolo che lo Stato ha nel favorire gli interessi delle multinazionali privatizzazione del diritto significa inventarsi leggi che si chiamano ad esempio compensazione della biodiversità che permettono alle multinazionali di dire io distruggo qui proteggo qui o ripianto qui il netto è zero il mio impatto è zero e quindi anzi se sono fortunato ho anche un impatto positivo perché pianto una foresta nuova ecco io su questo anche se sarei una mera traduttrice volevo aggiungere una cosa che riguarda noi molto da vicino anche noi trentini a livello italiano ma soprattutto anche a livello locale sappiamo che sono cambiate le leggi per la cooperazione internazionale ci stanno imponendo la partecipazione di privati nei progetti di cooperazione internazionale allora al di là delle riflessioni più così alte che possiamo fare perché comunque noi parliamo di beni comuni non vogliamo i privati e via dicendo però quando noi abbiamo chiesto al responsabile della nuova agenzia della cooperazione come sarebbero state scelte le imprese che insieme alle associazioni dovevano andare nel resto del mondo a fare dei progetti di solidarietà internazionale ci è stato risposto che vengono stilate delle classifiche proprio di compatibilità di ecocompatibilità e siccome quando abbiamo fatto questo incontro c'era la vostra collega Elena Gerebizza gli aveva proprio rivolto questa domanda ma in verità l'ENI è stata perché era un paio di anni fa è stata appena eletta a livello mondiale una delle aziende più ecocompatibili via dicendo quindi io farei anche un invito alle associazioni a chi di noi si occupa di cooperazione internazionale di stare attenti quando ci raccontano queste cose perché anche qua in Trentino questa legge, questi principi, questi valori stanno passando via lisci pensando che le imprese vadano ad accompagnare le associazioni a fare del bene a parte che anche questo è un concetto che noi rifugiamo con tutte le nostre forze però di fatto poi sono teste da riete per far entrare questo tipo di realtà solo una cosa l'altra settimana è una cosa un po' curiosa ma dispiace accanirsi con l'ENI sono così buoni e generosi però l'altra settimana stavo facendo una presentazione e un documentario sulla Total in Basilicata a Milano e ovviamente parlando di Basilicata mi è venuto naturale parlare dell'ENI del disastro che sta combinando giù e ho scoperto che al Politecnico di Milano c'è un dipartimento intero che lavora con la responsabilità sociale dell'ENI quindi un ragazzo che si laurea in biologia piuttosto che in agronomia diciamo se vuole fare un dottorato al 30% lo deve fare su un progetto dell'ENI questo è il livello di penetrazione all'interno dell'istituzione e poi basta guardare la lista dei giornalisti a libro paga delle più grandi multinazionali che ci si spiega come l'informazione pubblica in qualche modo aiuta a indorare e ammorbidire tutto quello che non passa appunto sui giornali non so se c'è qualche domanda ne siamo qua anche qualche intervento se no mi avvio a chiudere i nomi dei giornalisti i nomi dei giornalisti i nomi dei giornalisti vuoi sapere qui o? no ci sono è uscito tempo fa un articolo credo sul fatto che elencava in che percentuale ogni giornale veniva finanziato dalle più grandi aziende tra cui ENEL dopodiché ci sono giornalisti anche appunto probabilmente inimmaginabili che hanno come secondo lavoro o sono direttori dei giornali dei magazine delle aziende per esempio credo che non c'è una lista pubblica ma volendo incuriosirsi e fare ricerca è facile trovarli c'è anche un sito bellissimo che si chiama Enipedia dove ci sono tutte le cose dell'ENI in ordine alfabetico come un glossario e lì ci sono anche i progetti di responsabilità sociale dove tranquillamente in autonomia potete leggere nomi e cognomi di chi viene finanziato è la più grande agenzia di stampa italiana cioè l'AGE dell'ENI mi sono ritrovato una volta proprio un'inchiesta sull'ENI che doveva uscire su un giornale X e il direttore mi disse molto apertamente guardi stiamo riformulando il contratto con l'AGE quindi bisogna vedere come va questo contratto e capire se questa inchiesta esce il contratto non è stato fatto e quindi l'inchiesta è uscita un ultimo collegamento che forse abbiamo dimenticato di fare rispetto a tutto questo discorso del greenwashing sul caso colombiano in particolare del Ceregon è il dietro a cosa l'ENI si trincere e si nasconde quando noi facemmo la campagna contro la Drammon della Prodeco che erano veramente cattivi brutti e sporchi e puzzolenti e cattivi era veramente difficile per l'ENI mascherare in qualche modo nascondersi o giustificare il proseguimento dell'acquisto del carbone da loro col Ceregon è molto più facile è molto più facile perché esiste un ombrello europeo che si chiama Better Call che è un'operazione delle più grandi aziende energetiche europee che in qualche modo sono messe assieme per stilare dei principi e delle linee guida su quello che viene ritenuto sostenibile Better Call è quindi un ombrello è una sorta di timbro di sostenibilità che viene utilizzato e viene mandato sguinzagliato in giro per il mondo secondo appunto quello che dicono le aziende per andare a verificare la sostenibilità la tollerabilità il livello di impatto sulle comunità Better Call è di fatto assolutamente inadeguato e insufficiente dal punto di vista effettivamente delle verifiche sul territorio Better Call ha pubblicato da poco da qualche settimana un report sull'operato del Ceregon da cui emergono tutta una serie di via libera che confrontate con quelle che sono le rivendicazioni delle comunità dimostra l'assoluta inefficacia di uno strumento del genere le comunità rivendicano proprio che mancano drammaticamente di essere menzionate alcune cose macroscopiche tipo deviazioni di fiumi, scuolamento di comunità e quant'altro e dietro e purtroppo l'Enel per quanto riguarda l'operato del Ceregon si maschera e si trincera tantissimo dietro a questa etichetta di Better Call ma non solo il Ceregon contrariamente appunto a Dramond e Protego nel Cesar ha una capacità di presentarsi come diceva Angelica presentarsi pubblicamente ripulendosi la faccia in maniera molto efficace noi stessi quando siamo andati alla Guajira ci hanno mostrato alcuni rappresentanti comuni ci hanno mostrato delle collinette che erano state completamente riforestate dal Ceregon e quindi erano la fotografia la faccia pubblica che il Ceregon mostrava ai giornalisti a eventuali politici che si presentavano in missione là per dimostrare quanto l'azienda ripristini il territorio così come era stato trovato prima se non meglio e poi tutte ovviamente le operazioni di cui parlava Angelica e questo è uno strumento che in qualche modo facilita l'operato di Better Call e di conseguenza facilita le aziende nel giustificare la loro la non interruzione delle importazioni da loro Allora io chiuderei intanto domani c'è un altro appuntamento in cui ci sarà sempre Angelica Ortiz e insieme alle altre due amiche colombiane di Rio Svivo del Sessata Acquaviva cioè Tatiana Roa e Rubiela Avellanava e faremo il focus in questo caso più sulla questione dell'acqua legato più alla questione del genere quindi domani ci sarà questa bellissima conferenza a cui invito tutti a partecipare e chiuderei dicendo soltanto che forse sì delle volte ci sentiamo un po' insoddisfatti perché si potrebbe fare di più si potrebbe fare di più le nostre battaglie difficilmente raggiungono a cambiare il modello magari delle volte spostano il problema come è successo per esempio nella questione dell'Enel comprava il carbone da Dradramond ora la compra dal Sarrecon però poi dopo chiaramente il fatto comunque di continuare nelle battaglie si ottiene sempre dei risultati credo che sia importante sempre porre un'argine di resistenza di disobbedienza che ci siano organizzazioni come il Recomo e soprattutto i popoli come quello Wayu che nei loro territori veramente pongono un'argine a questa distruzione ambientale domandiamoci sempre se non ci fossero queste organizzazioni questi popoli e anche tutte noi e tutti noi che siamo qui anche a terra di disobbedienza qua al Santa Chiara grazie 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 grazie